La tradizione vuole che è nata così, all'ultima domenica, cioè la domenica successiva alla chiusura del sinodo, c'è la festa dell'asilo. È nata per coinvolgere sia i familiari degli ospiti, sia gli ospiti, comunque farli partecipare a un giorno di festa e soprattutto aprire le porte alla comunità, ma non solo perché la comunità di San Giovanni è molto presente all'interno dell'asilo e quindi alle comunità. Ci saranno dei banchetti, i soliti bazar o cose, banchetti di vario genere organizzati dagli Amici dell'asilo, che è un'associazione che appunto si occupa dell'asilo, si occupa di apportare soprattutto dei contributi per determinati progetti. Poi ci sono i banchetti degli anziani, perché l'animazione che c'è a livello quasi giornalmente per gli anziani comporta anche i laboratori di manufatti che poi vengono venduti in occasione della festa dell'asilo. Al pomeriggio continua, alle ore 15 ci sarà un pomeriggio di canti e musica per gli anziani principalmente, per cui sarà nel salone dell'asilo dove gli anziani canteranno, balleranno con chi verrà ad offrire loro la musica. E poi ci trasferiremo in piazza 17 febbraio per la presentazione del libro di Laura Salvai, Per un'ora di nuoto. Per un'ora di nuoto